Una stagione che finisce per dare il benvenuto all'estate tra le note dei fiati, le percussioni e i contrabassi a corda dell'orchestra dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini. Si è concluso così il primo appuntamento con la festa della musica a Caltanissetta, con un concerto ai piedi del Santuario del Redentore. Cinque i brani suonati dagli oltre 70 componenti dell'orchestra guidati dal maestro Angelo Licalsi, che durante l'esibizione non è riuscito a contenere l'emozione. Un desiderio che ha realizzato grazie ad una forte ed efficiente collaborazione non solo con gli allievi e componenti del direttivo, ma anche con la proloco di Caltanissetta. Quest'anno insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione abbiamo voluto individuare una sede che rappresenta il simbolo della città di Caltanissetta per cercare di dare un primo input per iniziare alla valorizzazione di questo bellissimo monde che va fruito a pieno regime da tutti i cittadini di Verdenissetta. Questa è una festa nazionale, investe tutte le città d'Italia in tutti i modi e devo dire che Caltanissetta si sta facendo valere in merito a questo. Diciamo che questa organizzazione è un'organizzazione che ci è costata anche dal punto di vista economico, ma la nostra città merita questo. Vorremmo poter fare di più, ma insieme a tutte le altre istituzioni, valorizzare quei luoghi che purtroppo, spesso e volentieri, anche con motivazioni non facilmente giustificabili, sono chiusi. Una passione che mi accompagna fin da ragazzino, dalle mie prime esperienze con la banda del paese, alla partecipazione dell'orchestra dell'Istituto Vincenzo Bellini, ha raccontato ai nostri microfoni il musicista Calogero Contino. Adesso sono entrato al conservatorio, di cui faccio parte attivamente da sei anni, e faccio appunto il primo Clicorno Soprano in orchestra, nella Symphonic Band del Conservatorio, con cui abbiamo fatto parecchie manifestazioni di vario genere, sia in ambito sinfonico, sia in ambito lirico-cameristico, e anche questa sera in veste un po' più ricreativa rispetto al normale, perché appunto oggi è il solstizio d'estate e con l'orchestra del nostro conservatorio vogliamo allietare e portare un po' di musica in questa giornata particolare.